Se se dovesse rialzare e andare a spegnere, a tutto da solo per 30 secondi, spia che l'amicina per 30 secondi, come no, vieni anche te, anche te, vieni, anche te, anche te, anche te, vieni, per 30 secondi, quando sono passati, ma se non si conta, quanto e quanto deve durare mesi, 30 secondi, no, è finito, no, è, si te rompe da sé, Che è successo? Come fai a vederla?